Sono la dottoressa Monica Greco, medico-chirurgo, specialista in geriatria e in fisiatria. In virtù di questa ultima specializzazione in particolare mi occupo da anni di problematiche del neurosviluppo nei bambini e di problematiche neurologiche negli adulti, nell'ambito della loro riabilitazione. La scuola di alta formazione epigenetica ha portato un valore aggiunto inestimabile nella mia pratica clinica e questo valore aggiunto è derivato dal livello di competenze, professionalità, disponibilità, possibilità di fare una rete che permettesse a me come terapeuta di avere nozioni precise, suffragate da documentazione scientifica con un'alta capacità da parte dei docenti internazionali e questo non è da poco, di fare la differenza nella pratica clinica di un medico. Io da allora mi sento più forte nella diagnosi, più forte nelle ipotesi terapeutiche, nei collegamenti tra ogni elemento, oligoelemento, aminoacido, sale minerale, stress ossidativo e tutto con la funzionalità degli organi e questo mi ha portato anche ad essere onorata di far parte della docenza di questa meravigliosa scuola dove non si finisce mai di essere allievi ma di essere anche lì per condividere quello a cui arriviamo in qualche modo. Pertanto io che di scuola ne ho fatte veramente tante, sia come allieva che come docente, dico a tutti i professionisti della salute di prendere in considerazione in maniera seria e che è una grande opportunità il fatto di iscriversi a questa scuola che è qualcosa che fa veramente la differenza.